Il Santuario della Madonna di Polsi si prepara ad accogliere migliaia di pellegrini per la tradizionale festa dedicata alla Vergine che si terrà nei giorni 1 e 2 settembre. Come ogni anno i fideli si riuniranno in un clima di preghiera e devozione per rendere omaggio alla Madonna, simbolo di spiritualità e fede radicata nella comunità calabrese. Le celebrazioni inizieranno domenica 1 settembre con le sante messe programmate alle 8, alle 10, alle 12. Il momento clou della giornata sarà alle 17.30 con la messe solenne presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Alberti, Vescovo della Diocesi di Oppidoma Mertina Palmi, seguita dalla tradizionale processione eucaristica e poi la giornata si concluderà con una veglia notturna alle 22.30. Lunedì 2 settembre il pellegrinaggio culminerà con la Santa Messa delle 10.30 celebrata da Sua Eccellenza Monsignor Francesco Liva, Vescovo della Diocesi di Locri Gerace e Abbate di Polsi. Seguirà la sorenne processione con l'effigie della Madonna che percorrerà le vie del santuario unendo migliaia di fedeli in un unico abbraccio di devozione. L'intera funzione sarà trasmessa in diretta televisiva dalla nostra emittente sul canale 76 appunto di Telemia e in streaming sul sito www.telemia.it. Per garantire la sicurezza dei pellegrini sono state però adottate alcune misure logistiche. A partire dunque da oggi, 31 agosto, la strada verso il santuario sarà chiusa al traffico nella zona Treare, obbligando i partecipanti a proseguire a piedi per circa 3 chilometri fino al luogo sacro. Per coloro che si recheranno più a monte sarà disponibile un servizio navetta dal castello Cano fino a Treare. Inoltre un servizio speciale è stato predisposto per bambini, aziani e persone con disabilità permettendo loro di raggiungere direttamente il santuario. Le forze dell'ordine saranno presenti per garantire che tutto si svolga in modo ordinato e sicuro con l'ausilio di due ambulanze di cui una medicalizzata pronta a intervenire in caso di emergenze sanitarie. I pellegrini potranno soffrire dei bagni chimici compresi quelli riservati e disabili installati nei pressi dell'area mercatale. Una nota importante riguarda l'assenza delle bancarelle che negli anni passati hanno animato il pellegrinaggio. La direzione del santuario ha chiarito che la decisione non è legata alla gestione del luogo sacro ma a irregolarità amministrative riscontrate dall'autorità pubblica nei confronti dei precedenti gestori. Don Tonino Saraco, rettore del santuario di Polsi, ha voluto rivolgersi direttamente ai pellegrini con un appello alla pazienza e alla collaborazione. Mi rendo conto, dice, che queste misure comporteranno dei disagi ma esse sono necessarie per garantire la sicurezza di tutti e vi chiedo, ha detto rivolgendosi ai pellegrini, di partecipare con spirito di sacrificio e adattabilità consapevoli del grande evento religioso a cui stiamo prendendo parte. Evviva Maria! La festa della Madonna della Montagna è uno dei momenti più sentiti della tradizione religiosa calabrese e anche quest'anno si prevede una grande affluenza nonostante le sfide logistiche. Il santuario di Polsi immerso nel cuore della Spromonte si conferma così un luogo di profonda spiritualità ed un punto di riferimento per la fede di migliaia di persone.